buonasera a tutti benvenuti in questa sera di halloween noi siamo qui a fare cose divertenti prima di cominciare a conversare su questo libro Ernesto Elena io volevo dire che a lui è una cosa divertente ma è morto un nostro amico Ernesto Ferrero che era un uomo che ha dedicato tutta la vita ai libri perché tra il fatto che li traduceva traduceva Céline, Flaubert, Perek poi ha scritto lui dei libri, dei romanzi ha vinto anche il premio strega con il libro N, Napoleone all'Elba ha scritto un libro su Salgari che mi piaceva molto questo uomo che non si muoveva mai da Torino un po' come lui e che ha immaginato chissà quali mondi e poi ha vissuto dentro la casa editrice Inaudi dei ruoli importanti nel momento in cui la casa editrice Inaudi era un luogo di grande cultura in Italia con degli autori molto famosi e importanti e poi ha dato vita e salvato il Salone del Libro di Torino che ha diretto per tanti anni quindi una persona che ha dedicato tutta la vita ai libri merita il nostro saluto, il nostro rispetto e quindi insomma stasera gli rendiamo omaggio presentando un libro in qualche modo certo lui non sarà più con noi ed è un vuoto per Torino perché lui era uno degli ultimi così intellettuali eclettici che in Italia sono molto rari capaci di occuparsi dei libri di letteratura attraverso tante cose diverse dall'editoria al giornalismo alla critica alla scrittura alla traduzione insomma un uomo che ha dedicato tutta la sua vita a questo e quindi stasera gli vogliamo rendere omaggio ripetiamo quanto bene gli abbiamo voluto e continueremo a volergli quanto bene lui ha fatto alla letteratura, ai libri, alle parole scritte è stato tante cose, è stato un uomo dalla gentilezza straordinaria e anche dalla generosità intellettuale e sentimentale straordinaria peccato davvero ma noi siamo qui appunto per raccontare o ascoltare soprattutto a lei partendo dal suo ultimo libro ecco io vorrei spendere due parole sul genere di questo libro perché la misura del racconto è veramente forse per uno scrittore, per un narratore il cimento più difficile e infatti in Italia, nella letteratura italiana è un genere molto poco praticato è stato come dire quasi per scontato che resterà un libro marginale che scrive il romanziere, che scrive racconti di solito in Italia viene nel momento in cui esce con un libro di racconti questo libro è a priori un libro secondario non vorrei dire marginale questo capita spesso ma non è certamente il caso di Adriana e personalmente, permettetemi due parole di giudizio personale da lettrice, certamente non di più per me è il distillato della narrazione è il distillato della scrittura, il racconto è un genere molto difficile perché come potete immaginare di fatto un buon racconto non è propriamente un romanzo condensato è qualcosa d'altro ma è certamente una esperienza di scrittura che richiede un impegno particolare nell'equilibrio, nel dosaggio nella costruzione di una trama e di un contesto di personaggi primari e secondari più complesso, più delicato da raggiungere rispetto a un romanzo dove puoi permetterti le divagazioni e diciamo un ritmo più dolce anche per chi scrive oltre che per chi legge personalmente io adoro il genere del racconto proprio per queste ragioni ma anche perché come lettrice il racconto ti pone di fronte a un'esperienza diversa più intensa più carica anche di sottintesi di misteri qualcuno un giorno mi ha detto ed è una cosa che tengo sempre presente quando leggo e anche quando scrivo ma soprattutto quando leggo non bisogna dire tutto e il racconto è un sottile gioco tra quello che dici e quello che non dici quando scrivi e quello che trovi come lettore e quello che non trovi nelle righe ma devi trovare fra le righe per cui dico subito che sono grata ad Alain per questa occasione di lettura ribadisco che se voi andate in libreria tra gli scrittori italiani trovate pochi libri di racconti contemporanei quindi è già un regalo quello che che fai al lettore in particolare al lettore appassionato di racconti come potete immaginare non basta mettere insieme una serie di racconti per fare un libro di racconti e qui è il secondo valore aggiunto di questo libro che è una raccolta ma è una raccolta nel senso più come dire più completo e più equilibrato non sono semplicemente una sequenza di storie ma è qualcosa che porta con sé un filo conduttore o più di uno e che ti spinge finito un racconto a proseguire sapendo che stai leggendo un libro non dei racconti sparsi e questo è molto importante credo perché lì ci vuole energia ci vuole suggestione ci vuole continuità nello stile e capacità di tenere l'attenzione del lettore in Adriana e le altre c'è tutto questo e ci tengo a precisare che non ci sono solo donne è un libro in cui ci sono molte donne protagoniste con primarie però la scelta stilistica e contenutistica di questa raccolta non è quella di parlare solo di donne c'è qualcosa di più ampio e ci sono dinamiche che tutti ci riguardano uomini e donne quindi il filo conduttore è decisamente più sottile io vorrei azzardare che tutte queste donne che sono in questo libro e che sono accompagnate da uomini e da tanti uomini diversi sono donne che hanno come filo conduttore la consapevolezza quando leggi che sono donne a cui l'autore ha pensato fanno parte dei tuoi pensieri dei ricordi delle nostalgie delle speranze di cose che fanno parte della tua vita non voglio dire che sono autobiografici è ben diverso anzi forse il contrario però sono in qualche modo parte della tua esperienza di scrittura e di pensiero ed è questo che le tiene insieme a cominciare da Adriana il primo racconto che è una rivisitazione di un grande autore che tu hai conosciuto meglio di chiunque altro e che a cui hai voluto bene no? e però però non è poi ce lo racconterai meglio tu però è inventiva non è una è una rivisitazione non nel senso che hai preso una storia e l'hai fatta tua l'hai in qualche modo trasformata in qualcosa di diverso però certi ecchi ci sono e ci sono tante altre cose io te lo dissi a suo tempo ma la storia della bambina che vuole il maiale per il compleanno Emma è poi straordinaria nella sua ironia e anche nel suo realismo perché questa bambina è così in realtà poi lei c'è poco in quel racconto ci sono più i due genitori però è così è così vera così concreta che veramente viene da darle un buffetto sulla guancia o uno scappaccione dipende perché non è una bambina semplice questo per dirvi che in questi racconti ci sono tante sfumature diverse c'è il tragico il comico c'è l'ironico il distaccato il partecipe ci sono anche molti luoghi c'è l'isola greca dove Filomena aspetta questa nipote che è assolutamente imprevedibile c'è New York c'è molta Torino e questa è una cosa di cui mi piacerebbe ascoltare qualcosa da te quanto a Torino c'è in questi racconti visto che siamo qui se non fisicamente a volte nella luce in una certa malinconia ci sono donne molto diverse fra loro alcune si accettano e vanno incontro serenamente alla vecchiaia altre come Sibilla non ci si trovano tanto questo per dirvi intanto quanta varietà c'è in questa raccolta ma anche quanto siamo liberi come lettrici e lettori di trovare quello che cerchiamo ma soprattutto di trovare quello che non cerchiamo e di essere sorpresi da queste figure da queste trame da queste descrizioni da questi luoghi a questo punto a me tocca un compito non facile nel tuo caso e cioè tu sei eccezionale nel come fai le interviste cioè sei unico in questo lasciatelo dire adesso tocca a me farti delle domande ci provo allora a parte a parte che vorrei ascoltare da te qualche impressione torinese questo te l'ho già detto e poi diciamo partendo da questa curiosità mia cioè quanta quanta Torino c'è in questi racconti anche non quella esplicita che c'è si parla a un certo punto della città però quanto c'è di questa città anche là dove non la citi ma questo così è una curiosità e poi naturalmente come nasce l'ispirazione di questi racconti e se questo filo conduttore di un certo tipo di tanti tipi di donne diverse che però non escludono la presenza alla costruzione di personaggi maschili ti ritrovi se sei d'accordo o no insomma me sono tante domande sì le ho buttate lì allora cominciamo da quello che ti dici dal racconto che porta il titolo del libro Adriana e le altre tu volevi accennare che questo romanzo è di ispirazione moraviana non lo è ed è l'unico mi sembra racconto perché poi uno non si ricorda mai veramente tutto quello che ha scritto che si svolge interamente a Torino in un appartamento torinese in corso duca degli Abruzzi in una di quelle ville al pian terreno con il giardino in effetti la letteratura in questo caso è molto più vera che verosimile perché io non andavo molto non andavo sempre a scuola perché abitavo anch'io in corso duca degli Abruzzi e avevo degli amici che abitavano da quelle parti e a volte invece di andare a scuola andavo a casa loro dove c'era questa atmosfera molto libera perché la madre Adriana era una svampita che aveva sempre mal di testa che stava in camera ascoltava la musica e i figli erano questi due ragazzi liberissimi e il vero protagonista di questo racconto è la donna di servizio che naturalmente era mia amica e che quindi mi preparava la colazione poi passavo la mattina poi tornavo a casa come se fossi andato a scuola e a poco a poco questa casa era diventata come casa mia per cui avevo le chiavi di casa e c'era sempre una atmosfera molto così molto libera e molto diversa dalle altre case di Torino non c'era quella rigidità quella regola che c'è invece e quindi era un luogo era come un'isola quella casa in mezzo a Torino c'era questa isola dove ne succedevano alcune storie che fanno parte di questo racconto cioè c'era un amante della madre io sospettavo che fosse anche l'amante della figlia però con la cameriera non dicevamo niente e poi insomma era tutto un po' un'atmosfera di questo genere e quindi rendeva la mia vita di studente a Torino abbastanza allegra no? perché mentre in casa mia c'era una vita rigorosa noiosa invece lì era un luogo assolutamente di libertà dove insomma feste cose poi veniva a un certo punto abbiamo fatto un film in quell'apartamento quindi sì Torino quello erano gli anni prima del 68 poi dopo c'è stato il 68 allora gli studenti hanno fatto altre cose no? c'è stato maggio 68 tutto quello che è venuto dopo ma quell'atmosfera già un po' ribelle si respirava in quella casa e quindi Adriana è un racconto che io ho sentito il bisogno di scrivere cioè di ricordare quell'episodio della mia gioventù di cui non avevo mai parlato no? cioè del non andare a scuola di andare al cinema la mattina di andare in quella casa eccetera 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 e quindi ho voluto ricordare questo però tutto questo libro nasce da un altro racconto che è Lenny che è l'ultimo racconto che non è un racconto ma una novella cioè c'è una differenza dicevi gli italiani non amano tanto il racconto poi vi dico un'altra cosa non amano neanche la novella che cos'è la novella? è un lungo racconto ma non è un romanzo e quando gli ho scritto Lenny a forza di correggere tagliare togliere è diventato troppo corto per essere un romanzo per essere un libro e quindi l'editore mi ha detto guarda scrivi dei racconti aggiungi qualche racconto e così ho sentito il bisogno di Adriana e poi sono venuti gli altri perché il racconto per me non è difficile perché ho cominciato così il racconto è come un acquarello devi farlo in fretta l'acquarello devi farlo farlo molto in fretta e il racconto anche se no non viene è molto diverso dal quadro a olio o dal romanzo che invece è una così è un millefoglio è una stratificazione di cose è più complicato il romanzo invece il racconto è così poi hai ragione a volte il racconto è l'incipit di un romanzo come è il caso del Tristano di Mann che poi diventerà la montagna magica che invece nel caso di Moravia che è lo stesso tema e anzi è ancora meglio raccontato che è Inverno di Malato che resta un racconto e quindi a volte un racconto basta anche per definire un grande scrittore cioè se Kafka avesse solo scritto La colonia penale o se Moravia si è scritto Inverno di Malato comunque si sente già che sono dei grandi scrittori poi è vero che il racconto piace di più al mondo anglosassone che al mondo latino perché è un genere letterario meno conosciuto ma io senza il racconto non esisterei perché i miei racconti che scrivevo ecco Torino ricordo che ero così incosciente e sapevo pochissimo sapevo che a Torino esisteva la casa editrice in Audi e allora con i miei sette otto racconti sono andato in via lì quella strada dove c'è in Audi c'era un uscere senza un braccio che gli ho detto senta vorrei vedere Calvino e lui non mi ha buttato fuori mi ha detto aspetti poi dopo è sceso un signore che si chiamava Fossati che era un altro che lavorava da in Audi e mi ha detto guardi Calvino oggi non c'è ma se vuole parliamo insieme e allora gli ho parlato poi gli ho dato i racconti e poi Calvino mi ha risposto quindi nasce tutto in questo modo poi mando alla stampa il giornale su cui scrivevo a Rigolevi il mio uno o due racconti lui mi manda io abitavo negli Stati Uniti lui mi manda una lettera di insulti dicendo la stampa non pubblica racconti rivolgiti alla gazzetta del popolo e io invece mi sono rivolto a Furio Colombo che era il corrispondente della stampa a New York e gli ho detto guarda il tuo direttore guarda come mi risponde e lui mi ha detto dammeli poi dopo tre mesi che questo Furio Colombo non mi diceva niente ero veramente offeso anzi volevo vendicarmi contro la sua cattiveria di non dirmi niente succede che però mi invita a colazione dopo quattro mesi in un albergo di New York e lui faceva il corrispondente lì della stampa all'una all'una non arriva all'una e mezza non arriva alle due non arriva insomma alle due e venti arriva Furio Colombo io lo guardo e gli dico guarda io non sarò nessuno ma un'ora e venti di ritardo tanto e lui mi ricordo che mi gelò e disse hanno ammazzato Casalegno così io rimasi zitto e poi parlammo di questa cosa qui alla fine della colazione lui mi dà un libro che era la rivista Nuovi Argomenti diretta da Moravia Pasolini e Siciliano e c'erano i miei tre racconti pubblicati e così comincia la mia vita allora tutto contento che pubblicano i racconti vedo un altro editore che era Roberto Calasso e gli dico hai visto ecco questi sono i miei racconti e lui mi ha detto nessuno li pubblicherà mai dei racconti quindi scrivi un romanzo io gli racconto una storia di un romanzo lui mi dice scrivi scrivi è una buona idea poi però quando il romanzo è finito finisce appunto da Adelphi dice ma questo personaggio che prendi molto in giro in fondo a vedere con la casa editrice lui non mi riceve Calasso mi fa ricevere dal suo capo Foa che mi dice guarda è meglio se questo libro va da Mondadori e così fu e allora e scrissi il mio primo romanzo il tuffo ne scrissi altri tre romanzi il tuffo stella oceanis e piazza carignano per finalmente pubblicare un libro di racconti come dici te non facile da pubblicare che si chiamava le due babe che era il mio primo libro di racconti quindi hai ragione l'iter per riuscire a esistere come scrittore di racconti dovevo avere scritto tre romanzi per potermelo permettere e quindi così però la cifra diciamo così del racconto è la cosa che mi che mi viene abbastanza bene non lo so se mi viene bene ma mi piace scrivere dei racconti Leni è una cosa tra i due perché è più lungo perché è più complesso è sempre il racconto di una donna adesso poi mi chiederai quello che vuoi ma è forse il racconto principale poi c'è il racconto preferito dall'editore Alma che però non è nel libro perché loro lo hanno dimenticato e quindi non lo hanno pubblicato no cioè erano in bozze poi questo Alma che mi aveva detto l'editore guarda questo qui veramente il racconto più bello il mio preferito purtroppo non c'è allora per non insultare i lettori ho proibito che in una seconda edizione mettano Alma perché sennò ci saranno due libri invece di uno insomma diventa un pasticcio e quindi c'è un racconto che è in aria che è Alma altri racconti a cui accompagnarsi comunque lo scopo di questo alla fine perché poi devi anche capire cioè se uno capisse quello che scrive mentre scrive non scriverebbe perché non è possibile no cioè non sai quello che scriverai però poi alla fine il filo rosso di questo racconto è che ogni mio libro deve essere un esperimento nuovo no cioè il mio romanzo precedente una giornata ha come esperimento di raccontare una storia un romanzo nella giornata e quindi è tutto un esercizio molto complicato di precisione su come i fatti avvengono realmente no per andare da quel caffè a quel posto quanto tempo ci vuole una conversazione quanto tempo dura una visita dal dottore quanto tempo dura cioè oltre alla storia c'è anche questa cosa che è un esercizio che io ho fatto no e che deve essere molto preciso poi siccome c'è un luogo che in quel caso è Parigi devi conoscere molto bene quella città perché il lettore se no si accorge che è finto quindi le distanze i tempi tutto deve essere molto preciso in questo libro ho provato a fare in modo molto molto modesto quello che dice Flaubert cioè Madame Bovary c'est moi cioè queste donne sono io e nello stesso tempo è presuntuoso perché forse non ho saputo capire fino in fondo non lo so lo dicono i lettori se le donne hanno veramente questo tipo di intelligenza di sensibilità di tenerezza di insomma di tutte le caratteristiche che le compongono quello che è più significativo secondo me più impegnativo è proprio Leni dove racconto la storia di questa donna tedesca che con la sorella scopre che questo dolcissimo padre che gli racconta delle storie meravigliose è un nazista e scoprono anche le divise del padre gelosamente tenute questo crea in loro una rabbia tremenda e le farà aderire ai movimenti rivoluzionari studenteschi e costeggeranno la famosa banda Badermainov però poi siccome non amano veramente la violenza e lei neanche finirà poi in Italia avrà un sacco di storie d'amore complicate sempre un po' in inglese borderline sempre un po' pericoloso un po' strano eccetera eccetera però lei è questa donna molto avventurosa che ha due figli che vivono negli Stati Uniti di cui una è veramente figlia del marito l'altra no insomma anche lì ci sono le amiguità e qui scatta il rapporto madre figlia questa donna rivoluzionaria che cambia avanti tutto il tempo che si veste in un modo molto vistoso e stravagante questa figlia che invece la vorrebbe no borghese vestita bene eccetera eccetera poi però ci sono i nipoti e allora lei diventa oltre che madre anche nonna in questo racconto e va a occuparsi di questi nipoti con la raccomandazione della figlia che è terrorizzata che la madre non se ne occupi e in effetti la madre sta pensando a un fidanzato che ha lasciato a Londra perché non rinuncia al suo essere donna anche se ha 70 anni né al suo essere innamorata né al pensare all'amore però i nipoti per quanto lei sia strana perché non sa se avere i capelli bianchi o tingerli biondi se mettere una minigonna degli stivali gialli non sa bene come fare i nipoti l'adorano questa nonna perché ha capito una cosa importante che racconta delle storie ai nipoti e quindi gli racconta delle storie stravaganti che è la storia della sua vita questi ascoltano con la bocca aperta e quando c'è un momento topico dice bene domani andiamo avanti domani ma come lascia i nipoti sul desiderio di questo racconto poi però non vi dico come finisce tutta questa storia eccetera per cui ci sono c'è la donna i suoi travagli il fatto ci sono tutti c'è questo innamorato a Londra allora io ho inventato tutti questi giochetti lo richiamo io o aspetto che telefoni lui ma se io gli telefono di notte lì è già mattina allora è meglio fa tutti questi calcoli ed è innamorata suona il telefono spera che sia lui invece non è lui allora gli dispiace eccetera eccetera ma più tardi quando succederà qualcosa di molto serio di importante questo qui di cui lei aspettava le telefonate era lì così trepidante innamorata quando lui comincia a telefonarle comincia a darle fastidio no? cioè lo trova noioso perché c'è altro da fare e quindi tutte queste cose mature dovrebbero venire fuori per esempio da questo racconto tu hai parlato della bambina e del maiale e sì quello è venuto non lo so quello è il mio stile un po' assurdo no? è un'altra maniera di fare racconti mi piaceva l'idea di una bambina che chiede ai genitori che vuole come regalo un maiale invece del criceto ecco e quindi questa cosa del maiale crea un turbamento totale nella famiglia tra il padre e la madre che litigano perché dice vedi la moglie dice tu in fondo glielo compreresti il maiale perché sei un pavido invece non bisogna e lei non sa che lei comunque il maiale l'ha già comprato e come l'ha comprato rubandole i soldi nel portafoglio e quindi tutta questa storia qui è assurda ma di nuovo è un po' è un po' quello che succede oggi no? i genitori questo è un tema che a me è molto caro e che io critico molto e che quando io ero giovane non dico che avevamo paura ma insomma avevamo comunque rispetto e timore dei nostri genitori mentre invece oggi i genitori hanno timore dei loro figli e quindi li rincorrono e qualunque cretinata fanno i figli va sempre bene e cercano di adeguarsi invece noi insomma i ragazzi della mia epoca e forse anche della tua non so bussavamo con timore alla porta di nostro padre ma forse non sempre per non disturbare insomma poi quindi i rapporti erano completamente diversi forse oggi ci vorrebbe una via di mezzo ma io condanno molto questo tipo di educazione in cui ai figli è permesso tutto i genitori si fanno insultare possono esserci delle parolacce tutte queste cose qua no? che non che per me è un problema molto grande che poi coinvolge la questione dell'educazione dei figli e che è una cosa che mi sta molto a cuore questa cosa qui cioè se andiamo a un'umanità in cui non si possono bocciare gli asini a scuola non si possono educare i figli bisogna sempre che abbiano ragione chissà che tipo di adulti diventeranno non so allora di questa bambina io su questa sua Emma sono abbastanza tranquilla perché a quella per i fatti suoni perché in tutto questo racconto lei è a legge con molta eleganza direi quasi poi credo che alla fine di questo maiale non le importi granché era proprio l'occasione per mettere a nudo le fragilità dei suoi genitori però voglio dire ci sono ci sono tante altre donne altre sfere sentimentali emotive in questi racconti in quello del maiale no in tutta la raccolta anche lì perché c'è anche una nonna cioè questa è una cosa che può succedere c'è una nonna che adora questa nipote che non ama tanto la figlia ma ama la nipote è molto affezionata alla nipote la figlia non esiste praticamente però questa nipote arriverà in quest'isola dove lei e quindi si prepara a accogliere la nipote felicissima dell'arrivo della nipote aspetta l'ora per andarla a prendere finalmente la va a prendere e questa scende con uno con i capelli lunghi l'orecchino il tatuaggio eccetera eccetera e lei rimane un po' stupita e dopodiché anche delusa perché quell'intimità che sperava di avere con la nipote viene rovinata da questo signore che lei non si aspettava di vedere naturalmente non può dire niente contro e quindi c'è questo rapporto nonna nonna-nipote che è un altro tipo di rapporto poi c'è invece una donna strana che ha una collana che è una donna ambigua mi pare che Sibilla e allora? faccio io la domanda? no te la faccio io no lo faccio io diciamo beh c'è chi che scende a patti con la proprietà però Sibilla ha un rapporto di frustrazione verso la madre questa madre mitica che aveva questa collana meravigliosa che l'ha regalato un marajan indiano e che lei è finalmente eredita e poi questa collana finirà all'asta no e anche lei ha dei rapporti amorosi complicati è una donna poi non mi ricordo poi c'è Alma ma Alma non c'è nel libro quindi non la raccontiamo ma potresti raccontare ma veramente Alma è un trompe nel senso che Alma è il nome di una madre che ha un figlio ma il vero protagonista è il figlio questo racconto e poi c'è l'uomo che diventa che diventa che diventa donna no? a Scagno e questo è un grande scherzo che c'è questo nobile genovese che ha un palazzo meraviglioso che è eredita però lui non se ne fa niente perché vive in degli appartamentini vicino alla stazione dove frequenta dei così lui dice delle prostitute poi va nei bar gioca a carte vede della gente un po' ambigua ogni volta che qualcuno si avvicina troppo cambia città sempre nello stesso modo un altro bar un altro appartamentino sempre vicino alla stazione e quindi è uno che è fuori vede sua sorella una volta all'anno ma insomma non accetta il suo ruolo però a un certo punto dal palazzo di Genova a tutte le persone più importanti più famose arriva questo invito molto elegante per un ballo e una cena in questo palazzo meraviglioso di Genova che è tutto allestito arrivano tutti e tutti sono elegantissimi e no? e c'è un posto vuoto dice ma dove è? e a un certo punto arriva una signora molto elegante che anche lei si siede e si siede al posto che è vuoto e in realtà è lui che è diventato donna e che lo ufficializza in quel modo e poi finirà che va a stare in Australia eccetera eccetera quindi sono tutti dei personaggi un po' particolari anche in questo libro no? anche Adriana è un personaggio particolare no? su Adriana io volevo chiederti qualcosa perché abbiamo scoperto che forse di tutti il racconto più autobiografico non è detto ah vedi ci lasci non è detto che lei sia un racconto cioè in ognuno c'è una parte finta no? c'è un'invenzione letteraria c'è qualcosa che non è mai successo però tutti i personaggi sono veri no? forse la bambina e il maiale non è vero no? non ho mai avuto una figlia che voleva comprare un maiale non ho mai letigato con una moglie perché volevo in fondo sì quindi lì non è autobiografico però mi sarebbe forse piaciuto avere una figlia che mi chiedeva faticosa eh? un po' faticosa eh non lo so non l'ho avuta quindi non lo so però forse anche la storia dell'uomo che diventa donna no vabbè adesso non ci allarghiamo non è detto che il palazzo di Genova che il personaggio portante che l'ispirazione di questo non sia anche vero no? però ecco la collana di Sibilla non è neanche detto che Sibilla non sia un personaggio vero non lo so no? no sono tutti personaggi molto veri molto concreti ma come fai a raccontare una storia se non hai un modello? ma fai a dipingere un ritratto se non c'è la persona davanti? però io volevo farti parlare un po' di Moravia nel senso di chi? Moravia parliamo dai perché tu hai detto che appunto Adriana è un racconto che non ha un'ispirazione moraviana perché è un racconto ma potresti che ce l'abbia ma non era l'intenzione non è gli indifferenti non mi è venuto in mente quello non ci pensavo affatto è una storia vera questa qua ecco per tu che è la io adoravo questa Adriana che mi difendeva la cameriera che adesso ha un altro nome nel libro insomma che mi faceva tutte le cose che mi piace mangiare ti immagini com'è bello per un ragazzo che a 15 anni aveva le chiavi di un'altra casa ad entrare uscire non so era un segreto e la cosa bella è che era il mio segreto questa vita infatti non l'ho mai raccontata salvo adesso perché e lei si chiamava veramente Adriana tu hai detto che scrivere è un po' come Flaubert Madame Bovary Semois però in particolare in questo in questa raccolta di racconti il talento dello scrittore è anche quello di raccontare l'altro da sé cioè di trarre ispirazione e sentire e tutti questi personaggi sono molto parte del tuo pensiero si capisce che sono concreti e veri nel senso che fanno parte non tanto della concretezza della tua vita degli spunti ma che sono personaggi che sono entrati nella tua sfera mentale sentimentale emotiva però è altrettanto vero che per uno scrittore uomo focalizzarsi e decidere di raccontare dei personaggi femminili è anche un po' confrontarsi con il mistero con l'ignoto inevitabile cioè è quello che lo dice persino la Bibbia in uno dei proverbi che il mistero per l'uomo è tante cose alte come dire trascendenti ma è anche il conoscere com'è sentirsi donna come raccontarsi e vivere da donna e quindi in questo senso per te è stato naturale o in qualche modo una beata e fertile fatica quella di ricostruire far pensare ragionare agire sentire questi personaggi femminili a me non piace la parola fatica no perché non non l'unica fatica che c'era nello scrivere i libri quando c'era la macchina per scrivere penso che adesso puoi scrivere a mano oppure molto più facile scrivere con il computer mi ricordo che invece andare in viaggio con la macchina per scrivere battere la macchina così quella era una fatica noiosissimo ricopiare tutta questa roba qui invece adesso si può cancellare correggere più facilmente quindi la fatica era quello scrivere non è una fatica è una vita è un po' diverso cioè tu vivi leggi pensi viaggi guardi conosci osservi poi è come l'innamoramento no in qualche modo nel senso che tu vedi migliaia di uomini o di donne poi a un certo punto tac ce n'è uno che ti colpisce e che esce dall'anonimato no cioè tu anche se cammini per la strada ti rendi conto di una tendenza come si veste la gente di quello che dice come si muove ma sono tutte delle ombre no delle persone che non che non conosci improvvisamente tac ce n'è uno che esce dalla cosa e lo stesso è il racconto il romanzo è uguale vedi una cosa e tac ti viene in mente una storia un personaggio un titolo un qualcosa come una puntura di un insetto no cioè di colpo il tuo naturale esistere turbato da qualche cosa di insolito che avviene che ti colpisce e quindi lo osservi e poi a un certo punto non lo so se capisci che diventa un'ossessione diventa una cosa molto forte ognuno di noi si esprime a modo suo il musicista si esprimerà componendo della musica il pittore facendo dei dipinti non lo so cioè uno scienziato inventando una formula matematica in qualche modo chi è creativo come individuo a un certo punto questa sensazione la esprime no e quindi la esprimi attraverso un romanzo un racconto un quadro una musica una scultura quello che vuoi ma la partenza è simile secondo me no e il bisogno a un certo punto perché la persona artistica cioè la persona che lo scrittore l'artista il musicista è una persona ipersensibile no diversamente sensibile da chi non ha questa tendenza e quindi ha una tendenza a esagerare le cose no a farle diventare molto più grandi di quello che sono e quando questa ansia esagerativa diventa troppo grande lo sfogo è il tuo craft il tuo se scrivi scrivi se suoni suoni se dipingi dipingi hai bisogno di esternare questa cosa che hai dentro di te e ti devi svuotare di questa cosa infatti a noi dei nostri libri una volta che sono scritti sono finiti ti dice licenziare un libro nuova via diventa un messaggio in una bottiglia perché tu dentro di te stai già pensando a un altro libro c'è un'altra cosa e se non c'è lo desideri no allora quando sei giovane ti puoi disperare no perché quando hai finito un libro e non ne hai un altro in mente dici adesso chi sono io cosa faccio invece con gli anni capisci che esistono dei tempi anche vuoti no in cui non hai niente nella testa e come e comunque se quello è succederà succederà che qualche cosa è come una crisi epilettica che arriva no cioè senti da lontano come descrive Dostoevsky nell'Idiota no cioè senti da lontano venire quello che poi sarà il tuo libro il tuo racconto quello che è e quindi senza fatica senza fatica la fatica è non è più fatica perché più vai avanti con gli anni meno lo è all'inizio era fatica correggere fare l'editing cioè tu scrivevi il primo poi dipende perché ci sono degli scrittori che scrivono sempre la pagina finita e finché non è perfetta non passano alla successiva io faccio parte di quelli che scrivono tutto il libro fino in fondo e poi chissà quante volte lo riscrivi no prima che diventi il libro finito e quindi tutta quella parte lì della correzione all'inizio come uno che fa un film giri il film poi devi fare il montaggio al partire dal momento in cui ti piatti cioè è uguale il piacere dello scrivere e del e del correggere o cioè del fare il film e di montarlo e allora non c'è più la fatica non c'è più la fatica perché comunque sì fai la lotta i congiunti a me non piacciono gli aggettivi congiuntivi queste cose quindi i che spariscono gli aggettivi le ripetizioni ho una scrittura abbastanza asciutta però alla fine mi piace anche quell'esercizio purtroppo come nel caso di Leni 250 pagine diventano 100 e quindi a un certo punto non basta per fare veramente un libro per il tuo editore però non ho mai questa idea di fatica perché nella scrittura c'è l'autodisciplina cioè tu sei libero qual è la differenza tra il giornalismo e il e la scrittura di letterario non è tanto nella lingua non è tanto nel raccontare ci sono dei giornalisti che raccontano benissimo che scrivono benissimo appena ho letto un libro di un giornalista che è scritto benissimo che è come uno vuole andare avanti a leggerlo no? solo che il giornalista può solo raccontare Mussolini il 25 luglio i personaggi che ci sono intorno il re tutte queste cose qua no? la storia il romanziere può parlare di un mendicante che sta all'angolo della strada di una signora che fa la fruttivendola di un infelice che cerca lavoro uno nessuno centomila e può fare di quel personaggio un personaggio come Madame Bovary una piccola borghese francese che si illude lui fa di Madame Bovary un personaggio universale cioè di una persona qualsiasi cosa che non puoi fare nel giornalismo cioè almeno che non abbia ucciso il marito che non è successo un fatto tremendo la persona normale non interessa le notizie quindi invece in un romanzo se il tuo romanzo è fatto bene o c'è qualche cosa puoi raccontare qualsiasi storia di qualsiasi persona e questo è molto importante come differenza e i miei personaggi sono tutti dei mezzi sbandati degli spiazzati delle come si dice delle persone destabilizzate non veramente borghesi che non sono mai veramente a loro agio nella vita in cui vivono che cercano altro che sono giudicati dal loro ambiente così così appunto queste figlie che li vorrebbero in un certo modo invece loro difendono la loro diversità eccetera però sono tutte queste donne Eleni Adriana Sibili sono tutte persone qualsiasi poi se uno si ricorderà di Adriana mettiamo identifica in uno di questi personaggi questo personaggio piano piano diventa un grande personaggio non so io per esempio considero Dostoevsky un grandissimo scrittore parlavamo del libro L'Idiota prima L'Idiota si apre con una scena di uno scompartimento di treno dove c'è questo principe un po' malaticcio e povero che sta seduto davanti a un altro che è diventato per caso che è uno un po' cafone così robusto eccetera che è diventato ricchissimo perché è morto il padre e c'è un'eredità questi due non si conoscono e vanno tutti e due nello stesso po' c'è anche un terzo nello scompartimento questo Lebedev che è uno sconosciuto che non è né il principe né quello che eredita però è lui che crea la situazione dice lei è il principe Mishkin quindi è della famiglia che poi sua zia si è sposata con quello lì eccetera mentre lei è ereditato perché sa tutto di tutti e loro non sanno niente né di se stessi né dell'altro e questo Lebedev è essenziale cioè è lo stesso che un lettore di rotocalchi cioè uno che non conosce nessuno ma che conosce tutti perché legge tutti i rotocalchi tutti i pettegolezzi quindi conosce tutto di tutti allora la rappresentazione di Lebedev è un capolavoro anche se i due personaggi principali sono Rogozini e il principe Mishkin capito? quindi è lì che vedi il per esempio Mann scrive questo libro che non è il mio preferito l'abbiamo parlato prima che è la montagna magica no? e quel libro lì una cosa che mi fa capire che comunque Mann è un artista è che c'è un personaggio minore che è una donna russa della tavola in sanatorio in questo sanatorio dove tutti mangiano la tavola in sala da pranzo eccetera c'è il tavolo dei russi ricchi e dei russi poveri c'è una di queste donne del tavolo dei russi poveri che si chiama Claudia che ogni volta che entra in sala da pranzo fa sbattere la porta e dà fastidio no? cioè si capisce che lei è entrata che c'è questo fastidio che lei fa sempre sbattere la porta e questo è scritto in un modo talmente straordinario che si capisce lì no? non soltanto perché ci sono dei personaggi importanti i dialoghi di Settembrini eccetera eccetera nel romanzo ma sono questi dettagli no? questi particolari questi personaggi minori che la letteratura ti consente di creare e che sono fondamentali per tenere il libro in piedi e che sono anche la poesia del libro in qualche modo no? che siano essi donne o uomini e quindi il personaggio di romanzo uno spera che diventi un personaggio famoso un personaggio universale ma non è mai un grande personaggio no? cioè poi non so in Stendhal in altri c'è Napoleone nel fondo no? c'è sempre questa questa cosa di Napoleone no? che c'è in Tolstoi che c'è in Foscolo che c'è in Stendhal eccetera no? la fascina come si dice l'indamoramento per Napoleone no? questa cosa di Napoleone che Julian Sorel che nasconde il ritratto di Napoleone nel letto no? perché non si poteva più dopo la restaurazione c'è ma Napoleone non è il personaggio letterario è un'esigenza del personaggio letterario no? quindi questo è molto bello che un giornalista deve dare una notizia un romanziere no anche perché si occupa di persone qualsiasi qualsiasi ma tutto le crea queste persone intenta dei personaggi o li vedi li scopre li descrive e lo colpiscono e quindi in questo senso è diverso e quindi queste donne sono delle donne che un po' le ho inventate e un po' mi hanno colpito e mi ha colpito che avessi voglia di scrivere la storia di tante donne di tutte queste donne che poi hanno un filo rosso che cos'è cercano l'amore no? in altre parole cercano il riconoscimento cercano l'amore non solo per l'amore love ma l'amore di essere amate perché anche la madre e la figlia che tra loro litigano tutte e due vogliono essere amate no? e anche quello che diventa donna vuole essere amato e anche quel personaggio che sta a idra in un caffè che si lascia morire di una malattia che beve si trascura eccetera anche lui vuole essere amato no? quindi il filo forse rosso di tutta questa storia di donne e che comunque sono tutte alla fine forti ma anche fragili hanno tutte dei sentimenti e con delle tonalità diverse per situazioni diverse quindi io penso di aver provato a raccontarle e poi non credo che gli uomini e le donne siano così fondamentalmente diversi in certi sentimenti e comunque ci sono anche degli uomini e quindi sono donne vis-à-vis degli uomini e quindi in altre parole è la vita no? solo che invece di essere raccontati in un'unica storia hai raccontati in tanti spicchi in tante storie avevo fatto un altro libro di racconti che si chiamava spicchi di un arancio lo stesso ogni racconto è uno spicchio poi tutto il libro è l'arancio grazie penso che ci voglia e naturalmente non mi resta che invitarvi a leggere questi spicchi a riconoscersi specchiarsi o scoprire quello che non sappiamo perché poi il bello della letteratura è anche sempre la scoperta la scoperta di sé o di altro da sé e comunque ricordiamo ancora una volta Ernesto Ferrero che ha dedicato tutta la vita a questa strana cosa che è il libro che è la letteratura che è la poesia che sono tutte cose che malgrado tutto ci saranno sempre prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti